Se ti dico Emilio è meglio, VHS Festival Bar, cosa ti viene in mente? Io sono Silvia Rossi e da oggi potete ascoltare Tribù, un podcast voice che racconta l'universo culturale degli anni 90 attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti al massimo. Proveremo a capire se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare, ma soprattutto a rispondere alla grande domanda del decennio. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Cerca Tribù nella tua app di podcast preferita. Levante, Levante. Non so mai bene cosa dire quando c'è di mezzo Levante. Un po' parto prevenuto, però effettivamente non è una con la quale me la vorrei prendere, perché comunque ha una bella voce, ha una buona capacità interpretativa. Sì, magari vuole dimostrare più di quello che è, quindi finge un po', esaspera un po'. Nei suoi testi, soprattutto nelle strofe, è a metà tra il banale e il finto sofisticato. Però se vai a fare la somma, non male, direi. Anche concettualmente questa idea della sirena, delle sirene, non mi dispiace. Il brano per me è valido. Poi, insomma, già solo perché siamo in estate, non ha cercato di fare la hit estiva, per me va bene. Per me già hai guadagnato dieci punti. Infatti, molto bene Levante. Non mi dispiace affatto. Nulla che mi abbia colpito particolarmente, però credo che questa sia una canzone che vada ascoltata e riascoltata un attimo, per elaborarla e metabolizzarla. Certo, non stiamo a parlare di Mina che fa Adesso sono io, eh. Non stiamo a parlare di Vacanze Romane, dei Mattia Balzar. Si parla comunque di sirene di Levante. Però, devo dire che a me anche la canzone di Sanremo non mi è dispiaciuta, eh. Certo, questa cazzone popul femminista che lascia il tempo che trova. Perché comunque sai che se vuoi parlare di certe tematiche e lo fai in un modo comunque banale, poi ti prendi un po' le conseguenze di quello che fai, di quello che sei. Però molto bello quel nonno noi, no? Quelle... quel gioco di voci, quel gioco... Quindi comunque bella canzone. Comunque che doveva arrivare a tutti, eccetera. Ecco, lei mi sembra che vuole fare un po' la indie, però per lo stesso tempo vuole arrivare a tutti. Quindi non... è come se non avesse ancora trovato la sua identità, Levante. Qua arrivano motorini. E vabbè. Comunque, direi che ho detto abbastanza. Ho parlato a sufficienza. Quindi spero che trova la sua identità, Levante. Perché per ora non si capisce se vuole fare la cantante indie o se vuole fare il prodotto di successo. Ok? Certo, una che chiama il suo disco caos di sostanze stupefacenti. Cioè... Secondo me questa sarà fatta qualche... qualche robetta e poi ha voluto giocare a fare la... la tossica. Sicuramente è una grande sensibilità, Levante. Non gli voglio togliere niente. Si vede che ha qualcosa in più. Si vede, te lo porta nel sottotesto, però poi non lo dimostra. Cioè... Non mi sembra matura. Non mi sembra completamente matura. Tutto qua. Mi sembra una che anche quando ha fatto la giudice X-Factor comunque ha dimostrato la sua incapacità. È molto... È un po' come Arisa che è una delle voci più belle del panorama italiano. Ma che quando parla... Poi... Insomma, se Arisa cantasse Basta sarebbe il top. E invece purtroppo queste qui parlano e poi succede quello che succede.